Ci siamo tutto pronto, partiti! Prima è Trigara con la steccato Pineta Bruna, quindi Marco il Biondo a largo Ape Maia, quindi troviamo Lord Vali, Appoint in Paris, Joy Ice, Mercante di Stelle e il Condottiero. All'attacco della prima piegata Pineta Bruna in vantaggio, in viola e giallo a contatto c'è Ape Maia, quindi Marco il Biondo in giubba rossa, a largo c'è la Fuchs nero di Joy Ice, quindi Appoint in Paris con all'interno Lord Valiant, quindi a chiudere il Condottiero sulla curva conclusiva, Ape Maia ha rilevato Pineta Bruna, si trascina ora Marco il Biondo, quindi Joy Ice, Appoint in Paris sulla curva conclusiva, Ape Maia ha aperto i rubinetti, è passato in vantaggio, si trascina Joy Ice con all'argo anche Marco il Biondo, sta passando Ape Maia ai 150 metri conclusiva, Marco il Biondo che fa la sua ricerca, ma Ape Maia è scappata, ha preso il tempo a tutti, Ape Maia viene a vincere nei confronti di Marco il Biondo, per la testa è strettissima tra il Condottiero che è finito a velocità doppia su Joy Ice. Il successo del numero uno dello schieramento, Ape Maia, in sella Gian Pasquale Foice, il training del signore Bruno Simonaggio, i colori della scueria Kimax. Seconda posizione per Marco il Biondo e per la terza è strettissima.